Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. La tosse e la freddoria che avevo dall'inizio settimana si sono tramutati purtroppo nel Covid, quindi sono a casa, arresti domiciliari nei miei studi, guardiamo tutte le partite possibili di queste giornate di Serie A e di Serie B. E ora, in questo video, che spero non verrà disturbato da colpi di tosse o starnuti, parliamo di Pisa contro Cittadella. Una gara che è andata nella maniera assolutamente opposta a come avrei creduto, e non solo, è andata in una maniera assolutamente opposta a quello che sarebbe successo, ne sono certo, tre settimane fa, prima della pausa. Il Pisa ha perso, subendo quella che è la prima sconfitta dal 10 di settembre, quando aveva perso in casa contro la regina, ancora sotto la guida di Maran, quindi erano quattro mesi che non perdeva, è stata sconfitta per 2-1 dal Cittadella, che si conferma la bestia nera, in questo caso del Pisa, ma è la bestia nera di tante squadre. Il Cittadella è una squadra assolutamente diversa da tutte le altre del panorama, quasi anche direi del calcio in generale, non soltanto del calcio di Serie B. È una squadra che gioca un calcio molto agonistico, è una squadra che ama spezzare il ritmo del gioco degli avversari, fa molti falli, blocca da ripartenze, pressa da tutte le parti, ma soprattutto credo sia una squadra che ha fatto bene i compiti a casa, perché prima di tutto si è rimessa in sesto con una condizione fisica molto migliore di quella che aveva prima della pausa. Secondariamente ha già fatto gli acquisti sul mercato, ci si è resi conto di avere dei problemi e nella gara odierna ha già presentato tre nuovi acquisti che credo abbiano fatto tutti il loro dovere, ovvero sia Salvi, sia Crociata, sia Maestrello entrato nel secondo tempo. Però la partita credo abbia più chiavi di lettura. Nel complesso la vittoria del Cittadella penso ci stia, perché il Pisa ha giocato comunque una brutta partita, una partita a un ritmo molto diverso, si è fatta incastrare da questo ritmo blando, da questo modo di giocare del Cittadella, da questa pressione del Cittadella. D'altra parte la formazione di Gorini è stata anche molto abile nei tiri da fuori aria, perché ha realizzato segnando da fuori, è andata vicina ad altre reti realizzando da fuori e è terzo punto della gara, l'arbitro Gualtieri e il prode collega Battista Alvar sicuramente non penso siano stati particolarmente esenti da colpe in questa gara. Per me già al primo minuto c'è un episodio che avrebbe potuto cambiare tutto perché la trattenuta di maglia su Beruato da parte di Crociata non sarà la cosa più evidente dell'anno scorso, ma ricordiamoci sempre i rigori che venivano regalati al Monza, quello vergognoso di Favilli contro la Ternana validati da Adamo Viola, perché questo non è rigore. Per me sinceramente ci sta non averlo dato, ma nel calcio normale che abbiamo visto in questi anni questo era un calcio di rigore. il Pisa era partito benissimo nei primi 3 o 4 minuti, poi il Cittadini è la prima volta che si è affacciato dall'altra parte una sponda di Asensio, del quale è difficile parlare da un punto di vista come personaggio sportivo, diciamo, però il suo sul campo oggi l'ha fatto, delle volte un po' di calcio ruspante a Marcordi una volta, magari un'entratina anche a fargli capire l'educazione ci poteva magari anche stare, però nessun giocatore del Pisa ha ritenuto di farlo. Il tiro di Mastrantonio da fuori è stato molto bello e il Cittadella è passato in vantaggio 1-0. Il Pisa non ha avuto una grande reazione, anzi il Cittadella ha giocato molto meglio nel primo tempo, senza dubbio, e ha trovato il gol del 2-0, poi ancora con un borde di crociata, in un'azione nella quale però era una punizione su una 3 quarti, guadagnata da Asensio, peraltro, dove il Pisa però ha un po' dormito, nessuno è uscito su crociata che si avvicinava a tirare da fuori area, anche Livieri è stato un po' lento nel reagire. In apertura del secondo tempo poi Livieri ha fatto una bella parata invece su Lores Varela, che al contrario è un ex molto elegante, che si è ben comportato sia in campo che nel comportamento generale, e la bella parata di Livieri ha lanciato una ripresa nella quale il Pisa sicuramente ha fatto di più, credo che anche la formazione iniziale stavolta sia stata probabilmente meno indovinata, ci sta, io non mi sento di fare nessun processo o niente, il Pisa resta per me una gran squadra, resta una squadra da promozione, resta una squadra forte, una brutta giornata capita, è capitata poi nella partita più complicata probabilmente dell'anno, perché ripeto, giocare contro il Cittadella è sicuramente qualcosa di difficile, di diverso, specie questo Cittadella di oggi, che è ritornato il Cittadella che abbiamo conosciuto in questi anni. Il gol della Speranza è stato realizzato da Moruzan, anche Moruzan una partita che non mi ha convinto molto, è anche un po' nervoso in un paio di circostanze con i compagni, però è stato bravo, ha timbravi da due passi dalla porta su un centro di Esteves. Poi nel finale qualche chance ancora per il Cittadella, il Pisa si è buttato avanti, c'è stato un colpo di testa di Ionizia, uscito di pochissimo, sembrava una di quelle partite storte, dove avremmo potuto stare lì tutto il giorno a giocare e la rete non sarebbe arrivata. Però l'arbitro Gualtini ha dato un calcio di rigore per un faro di mano di Branca e incredibilmente è stato richiamato al VAR e il rigore è stato tolto. Ora, Branca ha parato il rigore così, io adesso non so se ci sono altre immagini che non ho visto, non riesco a capire in quale maniera si possa essere stato tolto anche questo calcio di rigore. Forse poi nel complesso della gara diciamo il pareggio avrebbe potuto essere, poi ammesso che il rigore bisogna assegnarlo, però magari il pari, per come è nata la gara nel suo complesso forse sarebbe stato anche un premio troppo grande per l'impiisa di oggi. Cittadella, non credo nel complesso, credo nel complesso abbia anche meritato successo. Però ci sono stati tanti aspetti, credo sia una gara dalla quale trarre qualche insegnamento, trarre soprattutto un nuovo ritmo, una nuova velocità. Ho trovato una squadra un po' spenta, mi ha sorpreso questo, settimana prossima si va a Como, sul lago, l'anno scorso fu una gran battaglia, in un momento importante della stagione, e credo anche l'unice di partenza appunto sia stato meno indovinato rispetto a altre volte, è una partita nella quale trarre i giusti insegnamenti per ripartire subito. Ripeto, il campionato di 18 giornate è ancora lungo, la serie è stata infinita, non ci sono ragioni per cui non ne riparta un'altra di serie. Per il Cittadella è viceversa che credevo candidato da retrocessione se giocherà con questo spirito penso che gli uomini di Gorini invece possano anche salvarsi e avere anche delle soddisfazioni nel girone di ritorno. Vediamo le pagelle, sei a Livieri, cinque e mezzo a Esteves, cinque e mezzo a Ermason, cinque e mezzo a Barba, qualche serpentino in mezzo all'aria un po' spaventosa, sei a Beruato, cinque e mezzo a Ionizza che non riesco a capirlo ancora quest'anno in questa sua stagione, cinque e mezzo a Noji, sei a Marin, sei a Moruzan, sei a Masucci che magari non sarà con la sua età e non ha la possibilità forse di stare in campo così tanti minuti ma ci mette talmente tanta sempre voglia che non credo che possa mai essere insufficiente. Cinque a Giozzi, dei subentrati, sette a Sibili, ha fatto molto bene quando è entrato e positivo a Ketturi. Stavolta mi dispiace cinque e mezzo ad Angelo ma ripeto, per me resta un incidente di percorso, non ci vedo avvisagli di cose più gravi per ora. Per quanto riguarda Cittadella, sei a Castrati, sei e mezzo a Salvi, sei e mezzo a Perticone, grande leader e grande capitano, sei a Frare, sei e mezzo a Cassandro, sette a Crociata, sette a Branca, sei e mezzo a Mastro Antonio, sei a Antonucci, sei e mezzo a Loris Varela e sei ad Asensio. Maestrello interessante, bel gladiatore, subentato da ripresa, sette a Gorini, quattro e mezzo all'arbitro Gualtieri, insicuro come pochi, ventotto falli, cinque cartellini, un paio di rigori negati al Pisa. Grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao a tutti, un bacio da Lox, iscrivetevi, ciao!